Come ti chiami? Anna Rita Angelica Eliminare la cellulite Prova costume che si avvicina Appena sono scesa da lettino ho avuto una sensazione di libertà e sollievo Gli effetti benefici effettivamente si notano fin da subito Si ha infatti una certa leggerezza nelle gambe Si ritrova un certo benessere fisico Leggerezza, le gambe sono rilassate, bello Allenandomi diverse volte a settimana Risento un sacco l'acido lattico all'interno dei muscoli Impiegata, lavoro davanti al computer per otto ore Si, lo consiglierei alle mie amiche che hanno lo stesso problema Merita di essere provato e anche poi fatto Insomma, è stata bella Valente 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 Valente